Ciao bambine, ciao bambini! Oggi vi spiegherò le doppie. Doppio è un termine italiano che significa due volte o doppia quantità. Se prendo due consonanti uguali, formerò una doppia. Ad esempio avrò doppia L, doppia T, doppia S, doppia Q. Adesso con le doppie formiamo le parole. Con doppia L io scriverò colla. Con doppia T scriverò tetto. Con doppia S scriverò sasso. Con doppia Q scriverò sacco. Adesso con le parole formiamo le frasi. Con la parola colla io posso scrivere. Io uso la colla per incollare la scheda sul quaderno. Con la parola tetto scriverò. Il tetto della casa è di legno. Sasso. Il sasso è duro. Con la parola sacco io scriverò. Il sacco è pieno di caramelle. Vuoi un suggerimento per riconoscere le lettere doppie? Ascolta bene il suono delle parole. Se nella parola c'è un suono forte, ci sarà sicuramente una doppia. Come avete visto ci sono parole che hanno più di una doppia. Ad esempio, accappatoio, bassotto, che è un bellissimo cagnolino, passerotto, villaggio, rossetto e tante altre. Mi raccomando, per scrivere correttamente le doppie, presta sempre attenzione al suono delle parole. Questa piccola spiegazione termina qui. Vi ringrazio per aver guardato il video. Mando un caro saluto a tutti e a voi bambine e bambini tanti bacini.